Buongiorno, di Pablo Neruda, sarà come non fossimo mai stati. Un giorno moriremo entrambi, l'uno lontano dall'altra, e nessuno si ricorderà più di noi, nessuno. Nessuno si ricorderà del nostro tempo insieme, così breve, così eternamente breve da sembrare una vita. Un giorno non ci saremo più, e chi si ricorderà di noi, dei nostri primi giorni, di te, di com'eri fragile e bianca, e di me, che non parlarne meglio, nessuno. Un giorno, questo è certo, non ci saremo più, e chi potrà ricordarsi del nostro piccolo mondo insieme, così caldo, eppure così freddo, così leggero, eppure così difficile da levarsi di dosso. Nessuno. Solo io e te, ora, possiamo ricordare, dopo di noi, nessuno. e sarà come se non fossimo mai stati.